Oggi vi andrò a rivelare tutto quello che non sapete sulla nuova patch appena rilasciata su Fortnite Nuova arma, nuova modalità, nuove skin, ragazzi un sacco di roba di cui parlare Tutta questa patch potremmo dire che è a tema John Wick Infatti la nuova arma implementata, ossia il fucile d'assalto tattico E' anch'essa un'arma che proviene dal film di John Wick Sarà disponibile nelle varianti rara, epica e leggendaria E va a sostituire praticamente il vecchio P90 Infatti ragazzi il P90 è stato messo da parte E al suo posto c'è questo nuovo fucile d'assalto tattico Però ragazzi non è un reale fucile d'assalto Infatti utilizzerà le munizioni piccole e leggere Quindi quelle del P90, della mitraglietta e così via Caricatore da 30 colpi, infligge 22, 23, 24 di danno E il moltiplicatore alla testa è 1,75 Quindi non è per 2 E proprio come il P90 o comunque tutte le mitragliette leggere Della distanza fa schifo Infatti praticamente è un fucile da distanza ravvicinata E non da chissà quale distanza Proprio la Epic ci dice che ha voluto implementare questo fucile Sia perché sta collaborando con John Wick Sia perché vuole dare un po' di diversificazione nelle armi Però senza mettere troppe armi leggere, troppi SMG Hanno nerfato il Bowler, quindi la girosfera Hanno infatti tolto 50 di vita, infatti l'Epic ci dice che è uno strumento per muoversi più in fretta E non uno scudo Di conseguenza hanno ridotto almeno di 50 la vita In questa maniera può più essere inteso come mezzo di trasporto E non come mezzo OP per sfondare le difese nemiche Hanno nerfato la pistola a tamburo e qui voglio sapere anche la vostra Scrivetela qui sotto nei commenti perché Boh A me piace la pistola a tamburo Quindi ditemi se secondo voi hanno fatto bene a nerfarla Il nerf è del danno Infatti adesso fa 22 o 23 di danno Anziché 26-27 Ragazzi non è poco, fidatevi E infine abbiamo la modifica in game Che io personalmente apprezzo tantissimo Infatti adesso è possibile costruire nelle onde d'urto Quindi nei tubi di vento, negli split stream Se vogliamo chiamarli in inglese Infatti prima arrivavi a un certo punto e non potevi più costruire E in quanti, ma ragazzi in quanti sono morti Perché saltavano, non entravano nel tubo d'aria E morivano atrocemente al suolo Quindi adesso ragazzi si può costruire anche all'interno Ma tranquilli perché quando volate Potrete distruggere effettivamente le costruzioni Quindi non vi bloccheranno assolutamente il percorso Altro cambiamento Siccome ci sono state delle safe finali Che praticamente entravano nei tubi di vento E quindi i giocatori non riuscivano più a fightare Perché all'interno dei tubi di vento se vuoli non puoi fightare Quindi hanno deciso di stoppare Quindi interrompere, togliere l'elettricità I tubi di vento alle onde d'urto Perché così si chiama in italiano Anche se non ho capito perché Dalla quinta tempesta in poi Quindi dal quinto raggio in poi Però ragazzi fidatevi che se siete entrati nel quinto cerchio Ormai siete in endgame Quindi non mi servono più per muovervi Comunque ditemi la vostra anche riguardo questo cambiamento Secondo me hanno fatto bene Passiamo adesso alla parte più succulenta del video Sia quella riguardo John Wick praticamente Infatti sta arrivando E' stata implementata nel gioco E nei file di gioco La nuova modalità Potremmo dire che è una sorta di uccisione confermata Si gioca in squadre Ogni squadra ha tre vite Finite le quali non si può più respawnare E ogni volta che si muore Si droppa a terra una moneta Ragazzi prendendo quelle monete si fanno dei punti E alla fine chi ha più punti vince Anzi chi raggiunge un tot di punti vince Come meccanica è molto interessante Vedremo se poi gira bene anche su Fortnite Come c'era da aspettarsi ovviamente La skin di John Wick Come c'era da aspettarselo La skin di John Wick Non sarà quella della season 3 Che poi a me non interessa Perché io giocavo nella season 3 Quindi ce l'ho la skin di John Wick Però mi dispiace perché appunto non ce l'ha Sarà effettivamente questa qui Si chiamerà appunto John Wick La descrizione è Ogni azione ha delle conseguenze Molto la John Wick questa frase devo dire E sarà rilasciata nel negozio Sarà leggendaria Quindi ragazzi 2000 V-Bucks per comprarla A differenza invece degli accessori Che saranno ottenibili attraverso delle sfide Che adesso vi vado anche a dire Comunque sempre rimanendo sulle skin Abbiamo questa di John Wick Che possiamo anche vederla meglio Ed è in due stili differenti Questa qui che sarebbe quella normale Tutto bello agghiddato Ebbene abbiamo anche un'altra Molto più aggressive Purtroppo è sgranata perché i dataminer Non sono riusciti a trovarne una Di qualità migliore Però manco Goku Dopo la Genkidama Abbiamo qui John Wick Tutto trasandato Tutto colpito Tutto brutto Però anche molto cattivo E agguerrito Quindi boh A voi giudizi Quale vi piace di più? Quello agghiddato O quello trasandato? Cioè trasandato Cioè quello colpito O ferito Sfregiato Come volete chiamarlo Ma quella non è l'unica skin Infatti così come nel film Anche nel gioco Ci sarà la sua Compagna di avventure No di avventure C'è insomma La sua vallettina La tipa figa che gli sta accanto Ed è questa qui signori L'hanno anche già renderizzata Quindi ci sta Molto figa Boh Io non credo che la prenderò Perché non mi piace più di tanto Però A chi piace Se la può prendere E questa qui GG è la Epic Attraverso le sfide Invece potrete ottenere Uno zaino E un deltaplano Ragazzi questo qui È lo zaino Ed è molto figo È una moneta praticamente Dove c'è scritto Hence causa sui Ossia ognuno è artefice Del proprio destino Insomma ognuno è causa Di se stesso E le sfide per ottenerlo Saranno queste qui Ossia Competa 5 di queste sfide Vinci un match Della nuova modalità A tempo limitato Gioca 5 match Della nuova modalità Vabbè Colleziona appunto Dei gold tokens Quindi le monete Che verranno droppate Uccidendo i nemici Però sono 120 E non sono poche Però potrete anche Rubarle agli altri In effetti Pensandoci Colleziona un tot Di monete In un singolo match Fai del danno Con il nuovo shotgun E fai del danno Con il nuovo fucile D'assalto tattico Ovviamente sono le due Armi principali Che sono state introdotte In game Per questa collaborazione Di Joe Wick Perché infatti Vengono utilizzate Anche nel suo film E infine Ultima novità Ragazzi è stato scoperto Questo errore Dei grafici Della Epic Games Infatti In questa zona Della mappa C'è una specie Di montagnola Che non dovrebbe Essere lì Infatti Hanno utilizzato male Degli strumenti Per la modifica Della mappa Per la terraformazione Della mappa E hanno lasciato Questo spuntone Fuori dal fiume Dovrebbe essere vicino Happy Hamlet Se non erro Vedendo un po' La mappa così Oppure Forse è picco Ghiacciato E nulla ragazzi Non so se è ancora lì O se l'hanno fixato Dopo l'aggiornamento Ma Figo Sappiate che è un errore E l'Epic Non doveva lasciare Quella cosa lì Anche perché Non ha texture Non ha significato Non si può salire Non si può luttare E quindi è solamente un errore Così Giusto per farvelo sapere Quindi fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa nuova modalità Fatemi sapere Se prenderete La skin di John Wick O la sua compagna di viaggio Probabilmente Mi vedrete in live Per la nuova modalità Nel senso che Giocheremo insieme La nuova modalità In quel caso Tenetevi pronti A venire live Lasciate un bel like E iscrivetevi Se ancora non l'avete fatto E noi quindi ci vediamo Magari in un prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.